Ragioni profonde per un'Italia migliore Il nostro risorgimento ha una miniera di storie appassionanti che aspettano solo di essere raccontate. Quando la mente ritorna agli eroi del risorgimento si è abbagliati dai personaggi più mitici. Sono figlio della libertà e a lei devo tutto ciò che sono. Camille de Cavour nacque nel 1810 a Torino, la capitale piemontese. Ma la sua famiglia era quasi altrettanto svizzera e francese, poiché la nonna paterna era originaria della Savoia, a nord delle Alpi, e la madre proveniva dalla Svizzera. All'epoca il Piemonte era un piccolo dipartimento periferico dell'impero napoleonico, per cui il futuro presidente del Consiglio d'Italia nacque suddito della Francia imperiale ed ebbe come madrina di battesimo la sorella di Napoleone, Paolina Borghese. Cresciuto in una società che parlava francese, è naturale che trovasse tale cultura più accessibile dell'inglese. Sviluppò una passione per i romanzi e per i vini francesi. Gli scaffali della sua biblioteca personale accolsero Hugo, Balzac, Stendhal, Madame d'Estaël e Chateaubriand. Persuase il padre a permettergli di accompagnare un amico di famiglia in un viaggio di esplorazione in Francia e in Inghilterra. I due mesi trascorsi a Parigi furono occasione di un'estimabile educazione politica. Per la prima volta vedeva all'opera un parlamento e poteva studiare la rivoluzione industriale. Visitò carceri e scuole, prese nota dei livelli salariali, delle fabbriche e del cibo servito negli ospedali. In Inghilterra visitò aziende agricole nel Cheshire e a Norfolk, e fabbriche a Birmingham e a Manchester. Andò a visitare le officine del gas per rendersi conto dei nuovi metodi di illuminazione stradale. Visitò ricoveri, orfanatrofi e ospedali. Se la Francia poteva insegnare al mondo, una maggiore uguaglianza soltanto in Inghilterra era dato apprezzare la vera libertà. Se la prima insegnava idee, la seconda insegnava la loro concreta applicazione. Gli inglesi hanno il dono di saper lavorare in comune, discutono senza litigare. Hanno un gran rispetto per le opinioni individuali. La minoranza, per quanto piccola essa sia, è sicura di essere ascoltata con attenzione e pazienza. Lettera che Cavour scrisse da Torino a Massimo d'Azeglio, a Londra, il 17 marzo 1861, nel giorno della proclamazione dell'Unità d'Italia. Da questi giorni, l'Italia affirma lentamente una fase del mondo, sa propria esistenza, i diritti che gli appartengono di essere indipendenti e libri, e che la sottolinea sui campi di battaglia e sui consigli, e le proclamazione solennemente oggi. In questo giorno, l'Italia afferma ad alta voce, di fronte al mondo, la propria esistenza, il diritto che le apparteneva di essere indipendente e libera, e che ha sostenuto sui campi di battaglia e nei congressi. Essa lo proclama solennemente oggi. Il grande tessitore dell'Unità d'Italia è l'unico uomo veramente europeo del risorgimento, per formazione, cultura, interessi, aspirazioni. Un genio della diplomazia, un grande statista, che fiuta le situazioni e capisce al volo quali siano le soluzioni dei problemi. Il genio politico sta nel comprendere dove si ha il limite massimo al quale spingere le proprie idee e i propri ideali, calcolando i rapporti di forza e le possibilità effettive di successo. Ha una grandissima abilità nell'inserirsi, pur essendo un minore, nel gioco dei grandi della terra del tempo. Non è mai andato a pietire favori, presso i potenti di allora, ha affermato, con qualità intellettuali e morali elevate, l'orgoglio di un paese, di una storia, di una cultura che cercava di riaggregare le sue radici. La patria è una comunione di liberi ed uguali affratellati in concordia, di lavori verso un unico fine. La patria non è un aggregato, è un'associazione. Mazzini ci ha insegnato che i nostri primi doveri sono verso l'umanità e che tutti dobbiamo lavorare per il suo progresso. Ci ha esortato ad essere apostoli della fratellanza delle nazioni e dell'unità del genere umano. Fondò insieme la giovine Italia e la giovine Europa. La libertà del popolo italiano era legata strettamente alla liberazione degli altri popoli d'Europa, in una prospettiva universale di conquista dei diritti civili. Era orientato a realizzare un'Europa di pace, un continente che superasse finalmente secoli di conflitti e di lacerazioni. L'educazione è pane dell'anima. Senza educazione voi non potete scegliere giustamente far il bene e il male, non potete acquisire coscienza dei vostri diritti, non potete ottenere la quale partecipazione nella vita politica senza la quale non riuscirete ad emanciparvi, non potete definire a voi stessi la vostra missione. L'educazione è il pane delle anime vostre. La cultura e l'uso critico della ragione sono la base dell'affermazione del diritto, sia in ambito nazionale che internazionale, sono i cardini del progresso dell'umanità. Garibaldi, uomo sfolgorante, energico, pieno di determinazione, di lui bellissimo e gaiardo sul suo cavallo. Parlano la madre rosa, alla quale era regato d'affetto tenerissimo, la selvaggianita, nignera, bruciata dalla gelosia, e ancora Cavour, Vittorio Emanuele II, ma soprattutto le donne, una moltitudine di aristocratiche popolane che lo hanno seguito come in un sogno, inafferrabile, amante di un attimo. Nizza 1824 Ti ho visto andare via. Come avrei potuto piangere quando, tutta la vita, ho cercato di insegnarti ad essere forte? Vedevo i tuoi capelli rossicci e gonfi, le tue spalle larghe. Ti guardavo camminare come se fossi alto alto, e invece non lo sei. Da ragazzino cercavi di tenerti in punta di piedi, quando mi chiedevi, credi che crescerò? Io ti rassicuravo, ti dicevo che eri già bello alto, e così hai preso l'abitudine di camminare con grande sicurezza, parlando a quelli intorno a te, come se fossero più piccoli, più insicuri, bisognosi della tua protezione. La tua mamma. Nizza 1848 Appena ti ho visto sul ponte della tua nave, mi sono sentita dentro un palpitare come di passero imprigionato. Mi fai ancora sempre questo effetto, e mi sento una ragazza come la prima volta che ti ho visto, anche se sono seduta su una barca, in mezzo al porto, insieme a migliaia di persone ad aspettarti. Anita La Maddalena, 1857 Finalmente, generale, da anni aspettavo questo incontro, da anni lo sognavo. Non sono stata delusa affatto, anzi, l'ancora più affascinante di come non venga descritto. Quei occhi di cui tanto ho sentito parlare, quei occhi che dicono azzurri e invece sono d'oro, guardano con la tristezza dolce di chi ha visto scorrere una vita. Ora scrutano il colore del mare, ora inseguono il profumo delle erbe selvatiche nel vento. Speranza Torino, novembre 1858 Adesso anche tu lo sai, Napoleone III sarà nostro alleato, e insieme combatteremo contro gli austriaci. Non so che cosa sia successo esattamente, se è quella bellissima contessa di Castiglione che è riuscita a far dimenticare l'attentato di Orsini, o se il vostro cavour è veramente abile come si crede. Comunque ci siamo, Tieniti pronto ad invadere i ducati di Modena e Parma con i reggimenti di volontari che avrai addestrato. Speriamo che Mazzini non si metta di mezzo facendo il solito pasticcio. Enrico Cairoli Torino, febbraio 1859 Lo sapevo che a reti sarebbe piaciuto Rassomiglia più a te che non a quei politici sempre falsi, sempre pieni parole di bugie. Vittorio Emanuele ama la vita il cibo rustico racconta barzellette adaci e coraggioso. Vedrai che andrete d'accordo su speranza. Como, maggio 1859 L'ho vista arrivare anch'io quella ragazza e è bellissima con i capelli sciolti e il calesse col cavallo al galoppo. Ho ammirato il suo coraggio attraversare le linee nemiche pur sempre un gran pericolo. Ho apprezzato il suo gesto di chiederti di salvare Como. Dopo che Varese ha avuto il due trattamento dagli austriaci all'ora di occupare la città. Menotti Palermo, 1860 Mi dispiace che lei non possa conoscere mia zione. Essendo completamente diversi ci sono cose in cui vi siomigliate. Forse in questo amare la vita le battaglie essendo invece distaccati dalle bieghe delle cose terrene. In questo considerare il denaro come qualcosa di cui si ha bisogno ma che non si maneggia. In questo capire tutto degli altri fingendo indifferenza. Nell'amare le stelle e la natura. Nel detestare l'inutile crudeltà. Per dirle in due parole nell'essere grandi e semplici. Ho imparato molto stando nelle file dei suoi volontari. Grazie. Tan credi falconieri. Il faro Luglio, 1860 Strano questo re che ti scrive di non attraversare lo stretto e intanto ti fa dire da Litta Modignani che porta la lettera di fare di testa tua. Strano re che non si fida di Cavour. Tuo figlio Menotti. Caprera, 1860 Quell'isoletta meravigliosa sorge improvvisa in mezzo al mare di zaffero tra le pietre le capre gli alberi invernali la tua bella camicia rossa e il tuo sorriso saggio risplendono la tua generosità gratuita e disinteressata trapela dal tuo sguardo limpido Mary Caprera, 1860 Dovrebbero venire tutti qui in pellegrinaggio i politici europei vedere, capire come un uomo possa amare la patria e anche la terra conoscere la gloria e cercare la solitudine sacrificare se stesso per inseguire il bene collettivo amare gli uomini di tutto il mondo come fratelli John MacDum Caprera, giugno 1882 Passavo ieri davanti alla tua finestra ti ho sentito sussurrare il nome della mamma mentre con lo sguardo stanco inseguivi il volo di un gabbiano verso la linea dell'orizzonte ma di una cosa che dicevi devo chiederti perché ricordati quale guagliaciù un bacio Teresita all'alba del 9 novembre 1860 dopo aver rifiutato onoreficenze doni e denari offertili dal re Garibaldi si imbarcò a Napoli sul vapore Washington avendo con sé pochi sacchetti di caffè e zucchero un sacco di legumi un sacco di sementi una cassa di maccheroni una balla di merluzzo secco e poche centinaia di lire risparmiate senza che lo sapesse da segretario basso arrivederci a Roma grida ai suoi volontari che l'hanno soccortato fino al molo poi scioglie agli stesso la fune della nave e salpa alla volta della sua caprera un uomo coraggioso brillante nella guerriglia indifeso della guerra da tavolino innamorato del boi gest temerare quanto ingenuo innumerevoli volte eletto deputato ma senza l'elasticità di coscienza e di pensieri o peculiari a questa razza troppo impulsivo per essere un politico fu fedele soprattutto a se stesso di un'interna coerenza che altro non era se non la logica della sua limpida onestà della quale nessuno ha mai potuto dubitare i mille e le autostrade del mare la spedizione da quarto a Marsala ha portato i mille attraverso un'autostrada del mare ante litteram è importante la valorizzazione dell'Italia marina dei suoi porti delle sue coste dei suoi mari attraverso l'acqua l'Italia può esprimere uno dei suoi migliori potenziali d'altro canto che il mare sia l'Italia è nei fatti ed era anche una forte suggestione risorgimentale è lo stesso Mazzini ad escrivere l'Italia così il mare la recinge quasi da braccio amoroso ovunque le Alpi non la recingono quel mare che i padri dei padri chiamarono mare nostro il tricolore è il simbolo moderno di un popolo antico ricco di cultura di tradizioni di arte e di nobiltà d'animo ma anche sofferente per secoli per la mancanza di un insegna che lo unisse che rappresentasse la volontà di un destino comune così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù dentro e di fuori sovracanti dove è il cinta d'uliva donna ma parve sotto verde manto vestita di color di fiamma viva non rampare di aquile e leoni non sormontare di belvera paci nel santo vessillo ma i colori della nostra primavera e del nostro paese dal cenisio all'etna le nevi delle Alpi l'aprile delle valli le fiamme dei vulcani e subito quei colori parlarono alle anime generose e gentili con le ispirazioni e gli affetti delle virtù onde la patria sta e si augusta il bianco la fede serena alle idee che fanno divina l'anima nella costanza dei savi il verde la perpetua rifioritura della speranza a frutto di bene nella gioventù dei poeti il rosso la passione e il sangue dei martiri e degli eroi e subito il popolo cantò alla sua bandiera che ella era la più bella di tutte e che sempre voleva lei e con lei la libertà Carducci a differenza che per altre nazioni l'italiano non è nato come lingua di una capitale magari imposta all'intero territorio con le armi è nata da un libro dalla convergenza di circa 70 dialetti e linguaggi dell'epoca nel valore inconmensurabile del testo di Dante la lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura poi di una nazione nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita hai quanto a dir qual era e cosa dura è sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura tant'è amara che poco è più morte ma per trattare del ben chi vi trovai dirò delle altre cose chi vò scorte io non so ben ridir come ventrai tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai il canzoniere Petrarca chiare fresche e dolci acque ove le belle membra pose colei che solo a me pardonno il decamerone boccaccio Calandrino Bruno e Buffalmacco giù per l'omugnone vanno cercando di trovarle l'itropia e Calandrino se la crede aver trovata torna sia a casa carico di pietre la moglie il proverbia e tegli turbato la batte et a suoi compagni racconta ciò che essi sanno meglio di lui sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude ma sedendo e mirando in terminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensiero mi fingo ove per poco il corno si spaura addio monti sorgenti dall'acque ed elevati al cielo ci meno uguali note che è cresciuto tra voi e impresti nella sua mente non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari torrenti dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche ville sparse e biancheggianti sul pendio come branchi di pecore e pacienti addio quanto è tristo il passo di chi crescito tra voi se ne allontana concludiamo ora il nostro percorso di riflessione cedendo la parola ad un indiscusso protagonista del risorgimento il padre della patria il nostro gusto re sua mestà Vittorio Emanuele II sono ricordato come il padre della patria ed è per questo che a Roma mi hanno costruito un grande mausoleo sotto al Campidoglio dall'alto domino via del corso e là in fondo posso vedere cosa accade a sinistra a Montecitorio e a destra a Palazzo Chigi e vi garantisco che di questi tempi vedo anche cose che non vorrei vedere sono quello che compare nelle illustrazioni dei libri di storia tra Cavour e Garibaldi non c'è che dire Cavour era una testa fine un genio della diplomazia un uomo un tantino scostante però Peppino era una testa calda al punto che mio padre l'aveva perfino condannato a morte ma era più simpatico era uno che aveva le mie stesse passioni per le donne e per i cavalli era anche un gran soldato uno che sapeva suscitare l'entusiasmo della gente senza di me però l'unità d'Italia ve la sognavate sono stato io a mettermi in mezzo tra quei due tra la prudenza del conte e l'impulsività del guerrigliero a controllare che Cavour non la tirasse troppo per le lunghe e che quell'altro non ci tirasse in case francesi d'Andoretta Mazzini e la suffisazione per Roma ero l'unico ad avere un esercito vero e se non ero io a rassicurare quella snob della regina Vittoria e con l'ipocrita di Napoleone III col cavolo che avremmo fatto l'Italia ma unificata l'Italia quei due mi hanno lasciato solo uno si è ritirato a Caprera perché non voleva essere il secondo di nessuno quell'altro ha pensato bene di farsi venire un infarto dopo pochi mesi mi hanno piantato qui con degli uomini che non avevano la loro classe quel genio di Cavour era tutt'altra cosa la sapeva lunga quel demonio abbiamo scavato noi le prime gallerie sotto le Alpi e abbiamo creato un porto moderno a Genova aveva capito che l'Italia doveva essere europea e occidentale e che era fatta per stare nel Mediterraneo se la vostra Italia è diventata una grande potenza industriale e un paese quasi sempre rispettato all'estero dovete ammettere che anche grazie a questo imprinting e la vostra Lombardia è potuta diventare una delle cinque regioni più ricche d'Europa anche per le scelte che abbiamo cominciato a fare allora quando penso a quell'asino di mio figlio Umberto che faceva sparare sugli operai a Milano a mio nipote che si è alleato con i tedeschi e ha firmato le regi laziali e soprattutto quando vedo quel fenomeno del mio bis bis nipote che fa il ballerino in televisione sabato sera devo riconoscere che avete avuto ragione voi a votare per la Repubblica certo da padre della patria devo ammettere che non sempre mi avete dato delle soddisfazioni una volta in particolare avete perso anche la testa e l'avete ritrovata solo dopo vent'anni ma alla fine siete stati capaci di costruire una democrazia solida avete scritto una bella costituzione mantenete saldi i suoi principi la libertà dei cittadini e la divisione dei poteri una democrazia governante la solidarietà e l'accoglienza in fondo sono gli stessi valori che in tempi e condizioni diverse avevamo in mente anche noi che avevamo fatto l'Italia la scommessa credo che sia stata vinta di quello che non va cari italiani smettetela di dare la colpa a noi prendetevi invece le vostre responsabilità Sua Maestà Vittorio Emanuele II di Savoia primo re d'Italia Celebrando il 150esimo guardiamo avanti traendo dalle nostre radici fresca linfa per rinnovare tutto quel che c'è da rinnovare nella società e nello Stato Presidente Giorgio Napolitano 5 maggio 2010 Grazie a tutti Grazie a tutti